Mi fece un lavoro molto lungo e molto riconosciuto. Lavorarono, mi stavo dimenticando, una cosa, ci fu anche una piccola iniziativa di volontari, ripartirono anche dei volontari, ad esempio di alcune fabbriche, alcuni volontari della ricordata, che si misero in disposizione, e anche alcuni tecnici, quello che diceva sempre l'ingegnere Sant'Angelo, che è stato anche sindaco della nostra città, fu uno di quelli che partì per andare su questa colonna, lasciò una traccia al comune di Buia, al comune di Buia che fu riconoscente e si iniziò un grande rapporto, qualche anno dopo la città di Buia fu gemellata con il comune di Aurelia e il rapporto, lo sapete tutti, se ne molti del Focolara, il rapporto che c'è con il Buia è un rapporto molto effettivo, un rapporto che ha portato anche la città.